This looks like a job for me, so everybody just follow me cause we need a little controversy cause it feels so cute Ciao a tutti ragazzi, no Tom! Ciao a tutti ragazzi and welcome to my channel Allora, quello che vorrei fare oggi è un video haul in particolare di Shane Allora, ho qui come il primo pacco di Shane, il secondo mi deve ancora arrivare quindi probabilmente questo video sarà spezzato in due giorni diversi Ad ogni modo, prima di iniziare con il vero e proprio haul di Shane volevo far vedere qualcosa che ho preso da Primark, dato che siamo in tema haul appunto e dico subito che sono praticamente tutte cose per la casa Thomas! Prendiamo subito il pacco in questione che è questo è davvero gigante, è più grande di me, è davvero un bel paccone come potete vedere non ho ancora aperto il contenuto si possono comunque intravedere tutte le cose appunto generali Allora, prima di tutto vi faccio vedere quello che ho preso da Primark questi due pacchetti di dischetti di cotone sono super comodi, li ho provati, testati poi ne ho presi due, uno lo sto usando ho voluto provare queste gocce essenziali che sono per gli umidificatori questo è la lavanda diciamo che su Primark non ho preso cose generali della casa ma mi sono concentrata più su profumatori e diffusori cose di questo tipo, candele come vedrete adesso questa è la prima candela che ho acquistato dura 36 ore, c'è scritto ha questo tappo così ed è super bella proprio da vedere per quanto riguarda i prezzi non posso dire quelli di Shane perché non me li ricordo e non sono scritti posso dire invece quelli di Primark i dischetti ovviamente sono 75 centesimi ormai tutti li conoscono l'olio essenziale invece è 1,50 per quanto riguarda la candela questa veniva 4 euro questa in realtà è una spugna per il corpo per il bagno appunto, da mettere in bagno comunque questa candela ha veramente un profumo buonissimo mi è piaciuta tantissimo mi piace molto comunque come è fatto il packaging alla fine le candele le ho prese più per il packaging che altro e questa veniva 2,50 altra candela che trovo veramente bellissima il pack è semplice ma fa comunque la sua scena e onestamente ha davvero un profumo buonissimo di peonia perché c'è scritto peonia questa veniva 2,50 ho preso poi questo, non saprei neanche come chiamarlo ma mi piacerebbe metterci dentro la rosa e fare un po' come appunto la bella e la bestia io sono veramente in fissa con la bella e la bestia e è da tantissimo che cercavo qualcosa del genere e questo veniva 6 euro altra candela, questa invece veniva 5 euro che è un po' più elaborata comunque con questo tappo di sughero che in questo momento è durissima ok, bastava girarlo è molto grossa però comunque ci sta benissimo se volete metterlo magari su un tavolo, in salotto ho preso poi questi due diffusori che venivano 5 euro l'uno uno l'ho pensato per il bagno l'altro per la camera sono comunque molto molto carini ultima cosa della parte di Primark abbiamo questo cufanetto che veniva invece sui 10 euro il contenuto si presenta in questo modo abbiamo il diffusore con i suoi bastoncini poi la candela una mini candelina olio essenziale questo cosino fatto tipo di gesso che non ho idea bene che cosa serva forse per metterlo tipo negli armadi quindi questi erano gli acquisti di Primark a tema casa adesso andiamo a vedere invece gli acquisti di Shane ok allora vediamo di spacchettare la prima cosa che mi è arrivata in un pacchettino a parte anche se erano solo degli stickers e sono questi stickers con i dinosauri da appendere al muro da attaccare al muro per la camera del bambino sono questa serie di fogli e praticamente dovrebbe venire una cosa così come nell'immagine dato che ho deciso di fare la camera a tema dinosauri appunto io ho preso un sacco di stickers da attaccare al muro questo è il pacco generale questo è il primo questo asciugamano piccolino rosa che ho preso per me avevo paura onestamente che fosse in poliestere o comunque di quei materiali soffici che non asciugano niente è soffice però è fatto in cotone c'è comunque una percentuale di cotone e non so perché la luce continua a cambiare quando metto le cose davanti però ok seconda cosa sono questi fiori artificiali che praticamente dovrei averne presi tre pezzi se non sbaglio troveremo il resto comunque dentro la barra d'andiroba da mettere tutti e tre insieme il prossimo a questo sono queste farfalline senza tirarle fuori dovrebbero attaccarsi al muro questi qui sono stra carini sono sempre adesivi col dinosauro adesso li apriamo e sono adesivi da mettere praticamente sulle luci quindi sugli interruttori della luce questo pacchettino non ho idea di che cosa sia ma andiamo a vedere ah ok sono praticamente delle rose artificiali che ora non si vedono bene perché sono bianche c'è un sacco di luce però sono tutte queste rose finte comunque bellissime perché ci potete fare appunto un sacco di cose con le rose potete mettere dentro i cofanetti fare un sacco di cose carine altro asciugamano me l'aspettavo un po' più grande onestamente perché questo penso che sia quello per le mani anche se effettivamente è un po' piccolino però comunque può andare nel senso che se poi si appende è così quindi ci può stare non è comunque così male altro pezzo me l'aspettavo anche questo un po' più grande pensavo che fosse almeno qualche centimetro più largo e qualche centimetro più alto però comunque questo cofanetto adesso non lo vado ad aprire magari lo aprirò quando dovrò metterlo a posto comunque è questo cofanetto con delle rose dentro comunque le rose si possono togliere potete tenerlo anche come cofanetto per qualcos'altro a forma di cuore e direi che è stra carino mi piace davvero molto poi altra cosa sempre che aspettavo un po' più grande onestamente più che altro perché dalle foto e dalle recensioni sembravano effettivamente più grossi questa è una piantina finta che appunto non aprirò adesso questo invece dovrebbe essere l'asciugamano con un fiocchetto ah ok carinissimo eccolo praticamente è questo e si appende probabilmente si usa magari per appunto asciugarsi le mani dopo che abbiamo lavato i piatti o cose di questo tipo o comunque in cucina lo straccio per asciugare i piatti ma non volevo utilizzarlo anche per le mani quindi separare le due cose tenere lo straccio per pulire i piatti e lo straccio invece per le mani senza mischiare le due cose insieme che non è chissà che igienico e quindi ho comprato e acquistato questo il colore era casuale c'era azzurro grigio o rosa me l'hanno mandato rosa speravo in realtà di riceverlo grigio ma anche rosa comunque così un po' antico non mi dispiace scusate se vado per le lunghe e parlo a me piace molto questa tipologia di video e quindi ogni volta mi perdo via a parlare a spiegare questi sono gli altri fiori bianchi che abbiamo visto prima e dovrebbe essercene infatti anche un altro questo non ho idea di che cosa sia andiamo ad aprirlo insieme è uno specchio dove questi ghirigori si mettono tutti intorno diventa tipo un sole con dei ghirigori intorno a una cosa del genere l'ho preso per il salotto questo qui carinissimo è la federa del cuscino per la camera di Thomas quindi la camera del bimbo sempre a tema dinosauri adesso oh bella spessa è fatta così siccome io ho un cuscino quadrato appunto che non uso ho pensato di metterlo nella camera del bambino come appunto decorazione altra piantina che ho preso questa questa invece l'avevo pensata per il bagno dato che il bagno appunto sto facendo un po' il tema rosa chiaro barra bianco barra panna e con quei colori un po' lì comunque questa piantina appunto l'ho pensata da mettere in bagno e mi sembra carina anche questa me l'aspettavo appena appena più grande però in realtà con le dimensioni ci siamo quindi carina però in queste piante artificiali non vengono praticamente nulla un euro due euro comunque sono veramente molto belle questo è l'altro asciugamano dovrebbe essere per le mani ma vedo già che è parecchio piccolo quindi vediamo com'è questo l'ho preso sempre per me perché è rosa ce ne dovrebbe essere un altro che ho preso invece per il mio ragazzo questo che non si vede bene da video è color panna allora questi sono dei gancetti sono i gancetti ne ho presi 15 o forse qualcosa di meno no penso 15 sì e li utilizzerò appunto per mettere innanzitutto l'asciugamano degli ospiti in bagno e poi appunto ci appenderò tutte le cose che serve appendere questa doveva essere una cesta dei giochi per il bimbo ma effettivamente è mega piccola quindi adesso voglio vedere come diventa e voglio andare ad aprirla ah ok ok era semplicemente chiusa bellissima cioè per 3 euro una cosa così questa è la cesta quindi dei giochi non l'ho trovata con i dinosauri quindi ho preso quella con gli animali molto easy ecco e poi non ho mai capito se si dica Shane o Sheen io comunque in questo video dirò Shane anche se molto probabilmente avrei dovuto dire Sheen queste queste molto carine sono delle lucine ne ho prese anche altre non di questa tipologia di un'altra tipologia sono indecise se dato che io ho la lampada praticamente lì che è della stessa tipologia di rose tinte stavo pensando di metterla rose bianche dietro sul per addobbare praticamente il retro del letto no come si dice la testiera del letto non so quanto lungo verrà ancora questo video però calcolando ho ancora tutta questa roba più questa e poi mi dovrà arrivare un altro pacco spero non venga 6 anni di video allora ho preso questa scritta home da mettere nel corridoietto che abbiamo qui che porta alle camere e devo dire che è carina non so che c'è ah ok mi aspettavo che ci fosse una base dove si poteva appoggiare ma credo di no comunque è bella mi piace questo pacchettino non so che cos'è mi piace perché alcuni sono misteriosi ah ok questo che serve per portare i dischetti e questo ho deciso di metterlo poi in bagno altro cofanetto che è questo questo qui sicuramente me lo aspettavo più grande però è comunque carino per metterci qualcosa allora questi sono gli sticker da attaccare alla camera del bimbo e sono quelli che si illuminano al buio poi l'ho preso per la camera del bimbo sempre questo nastro è verde io l'ho scelto in verde ma c'era anche in blu appunto azzurro dove si mette si attacca appunto verso magari dove ci sono i battiscopa sui angoli della camera e al buio si illumina questo allora questi sono i pezzi forti questi sono i pezzi che aspettavo da tanto del mio ordine spero che siano grandi abbastanza dalle foto sembrava ma non si sa mai ok no va bene questa mensolina che io metterei in bagno in bagno me ne servivano due o tre sicure e ne ho prese penso più di due o tre anche se alcune sono nell'altro ordine che mi deve ancora arrivare e quindi sono queste mensoline fatte in questo modo avevano dentro anche questo che serve appunto per attaccarle al muro che secondo me è la soluzione più bella senza fare i buchi nel muro comunque questo è una figata è bellissimo uno sticker grosso col dinosauro è così adesso è tutto sparpagliato questa dovrebbe essere la prima parte e poi va il dinosauro va tutto composto comunque queste sono dei fiori ma sono delle luci in realtà qui e di queste ne ho acquistati due pacchi qui c'è un asciugamano sempre praticamente in cotone rosa queste che sono bellissime sono in realtà le impronte da attaccare al pavimento hanno la forma di una zampa di dinosauro di una zampa di un'impronta ecco sono queste impronte da mettere in terra che si illuminano poi al buio questi sono i famosi cristallini e ne ho presi due o tre pacchi comunque più di uno sicuramente e si possono usare come quelli che praticamente si possono usare per mettere dentro i pennelli io volevo metterci dentro dei fiorellini o cose di questo tipo poi abbiamo questo che è uno zainetto mi fa ridere solo a guardarlo è bellissimo me lo aspettavo più grosso onestamente dalla foto sembrava un po' più grosso però è veramente carino l'ho preso per il bimbo e c'ha questo dinosauro sopra è tutto verde mega carino è anche abbastanza spazioso magari per portarsi due giochini o l'acqua appunto quando andiamo dai nonni o quando andiamo un po' in giro ecco cose di questo tipo lo appenderò nella sua cameretta essendo che il bimbo è piccolo anche se è piccolo è perfetto queste sono le altre due mensoline se non sbaglio poi ce ne saranno altre se ci sono evito di farvele vedere che ormai le abbiamo già viste questo che è fatto in questo modo se riesco a tirarlo fuori l'ho preso per ok si chiude non ho ancora capito come si fa ah ok si chiude così questo l'ho preso per metterci dentro il cotton fiocchi invece e qua volendo uno può metterci un anellino o intorno può metterci qualcosa ecco le altre farfalle che si sono un po' spiegazzate però sono queste abbiamo poi questo aggeggio che praticamente volevo mettere come scarpiera una sorta di scarpiera magari per le ciabatte o per le scarpe che appunto utilizziamo tutti i giorni non so se si vede dalla figura ma dovrebbe diventare questa cosa qui poi ho preso questa tovaglietta da mettere sul tavolo ok è fatta in questo modo la pensavo più piccola onestamente quindi mi piace davvero tantissimo da mettere appunto durante il giorno sul tavolo bellissima bella bella mi piace veramente tanto forse il prezzo si sarà girato intorno ai 3-4 euro quindi penso che per questa dimensione vada benissimo forse sui 6 euro se non sbaglio c'era anche la versione più grande ok abbiamo smaltito un po' di roba c'è ancora qualcosina però poco comunque questa è l'altra cesta e non l'apro perché sennò mi diventa come quella lì che avete visto ah questo è il porta scottex qui c'ha il suo adesivo e serve per mettere appunto lo scottex così ogni volta non devo andare a prenderlo in alto e posso tranquillamente attaccarlo sotto dove c'è il ripiano della cucina poi abbiamo questo che serve per la lametta da appendere al muro così la lametta non occupa spazio altre farfalle queste invece sono in bronzo barra oro rosa ok ho dovuto interrompere un attimo scusate si è svegliato il bambino mi sono arrivate due foglie uguali pensavo che in teoria arrivavano casuali le tipologie di foglie comunque sono dei gancetti per appendere le cose io principalmente li volevo per appendere le chiavi abbiamo poi questo asciugamano piccolino in azzurro che è appunto il compagno diciamo di quello rosa di prima altri sticker col dinosauro uguali a quelli che vi ho fatto vedere prima questi invece sono bellissimi sono altri sticker però mi è piaciuta molto la frase se riesco ad aprirlo dove dice appunto per andare a letto io conto i dinosauri non le becore e quindi mi è piaciuta subito ho preso poi questi led che volevo mettere sotto al mobile della sala non vedo l'ora di provarli vedere come viene insomma poi testerò e vedrò poi c'è questo è da attaccare alla parete per misurare l'altezza del bimbo ed ecco il dinosauro quindi mi è subito piaciuto anche questo ho preso questo rotolo che dovrei averne preso più di uno praticamente è in argento e serve per coprire le fughe delle piastrelle quindi io l'ho fatto perché nella foto mi sembrava una figata risultato finale e voglio assolutamente provare per farlo in sala in cucina sempre per il bimbo poi mi piaceva questa sacchetta con i dinosauri un'altra genialata secondo me che è appunto questo scotch di adesivo dove tu lo attacchi da qualche parte e lui attacca le cose altri cristalli eccoli qui poi abbiamo questo che ricorda molto il profumo di Elena Grande lo avevo preso per metterci dentro il sapone intimo da mettere in bagno e avere un copanetto un po' più carino poi c'è questo che non ho ben capito vabbè ok si è un po' si è un po' cartocciato comunque è una torri fell rosa che volevo mettere qui in camera che però a dir la verità è molto molto piccola cioè veramente io ho la mano piccola ma è più piccola da una mano io pensavo fosse una cosa magari alta così un soprammobile e invece è veramente piccolissima allora le ultime due cose di questo pacco sono questo cappellino che ho preso per il bimbo ed ecco qui il famoso cappello ultima cosa di questo pacchetto poi ce n'è un altro piccolino che era comunque tutto in uno è questo che è il portatelefono che è da mettere praticamente in bagno dove c'è la doccia barra vasca da bagno io ho la vasca da bagno un pacco and art ci rimane solo questo altro pacco misterioso ah ok il gancetto con la rosa volevo metterlo in camera questo a differenza degli altri che ha all'adesivo questo qui ha invece il buco quindi bisogna per forza bucare il muro però era talmente carino che un buchino andrà bene lo stesso per un cosino così ecco gli altri fiori che stavo perdendo ok questo era il tappettino del bagno ma ho sbagliato perché come misure io dovevo prendere quella più piccola che stava attorno al water e invece io ho preso quella del tappettino praticamente per la doccia quindi ho ho sbagliato totalmente misura che bello mi sta andando via tutto il rossetto vabbè bellissimo se non fosse appunto che la misura è sbagliata qua adesso io devo andare a mettere a posto tutto il cesto che ho fatto qua dietro adesso ve lo faccio vedere è davvero tutto molto incasinato quindi ci rivediamo sempre in questo video ma con un'altra parte di haul e probabilmente quindi mi vedrete in modo diverso ok rieccoci con la seconda parte del haul e questo è l'altro pacco quello che appunto mancava comunque non sono molte cose quindi penso che faremo abbastanza presto abbiamo questo pacchetto e di più abbiamo poi quest'altro allora le ceste di giochi che sono queste le avevamo già viste non le andrò ad aprire le metterò poi direttamente nella camera del bambino comunque ne avevo prese 4 quindi queste sono le altre due mancanti l'unica cosa di beauty che penso di aver preso sono questi dischetti lavabili e mi ci sono trovata davvero molto bene ultimamente quindi ho pensato di riprovare comunque a utilizzarli ho comprato poi questi che sono sempre da mettere in bagno perlomeno nel mio caso erano praticamente dei porta sapone quindi si attaccano al muro del bagno e qui ci potete mettere appunto il sapone o quello appunto per portare gli spazzolini e tutte queste cose abbiamo poi questo pacchetto che non so cosa sia adesso vado ad aprirlo ah questa è bellissima è una rosa fatta in questo modo è tutta plastica ma sembra di vetro a vedersi e ha anche le lucine che vanno poi messe intorno alla rosa comunque devo dire che è davvero carina mi ero dimenticata anche di averla presa però bella in un altro pacchetto ho trovato poi questa che è una candela e ha tutti i glitter è veramente carina io l'ho presa da mettere sui comodini ne ho prese due quindi questa non la apro perché è identica a questa qui ci sono altre due mensole di quelle che vi avevo fatto vedere anche nella parte 1 qui c'è un'altra cosa di beauty che non mi ricordavo di aver preso quindi è una spazzola ed è un rosa comunque confetto e la mia è veramente messa malissimo quindi ho pensato di prenderne un'altra ah io di solito le prendevo da Primark ma ho scoperto che da Shane costano addirittura meno quindi mi è vissuta molto e ho preso questi sono fantastici sono fatti così e sono dei sottobicchieri non capivo se fossero rigidi o morbidi dalla foto però sono morbidi così mi piacciono molto di più quindi voi ci mettete sopra la tazza li mettete sul tavolo e fanno comunque la loro figura sono secondo me molto molto belli qui avevo preso altri cristalli per comunque cercare di creare le mie decorazioni e tutte cose abbiamo un altro contenitore non lo tiro fuori perché l'avete già visto nella parte 1 è identico a quello di prima e infatti avevo detto che ne avevo presi due se non sbaglio quindi identico questo invece che ha l'apposito sticker per attaccarlo al muro è per il telecomando del condizionatore cioè io l'ho preso per il telecomando del condizionatore ma c'è chi l'ha preso anche per il telecomando della tv anche se è un po' basso per tenerlo dentro e qua in teoria dovrebbe poter tenere il cavo del telefono a me non serviva questo però mi sembrava carino bianco molto semplice da mettere a questo il telecomando del condizionatore che fa sempre comodo non avere in giro per casa e averlo invece sul muro ok io qui addirittura l'ho provato a prendere un po' rischiato delle cuffie bluetooth non ho idea in teoria dovrebbero essere azzurre ma adesso vado a vedere non ho idea se funzionino le recensioni erano alte erano buone tutti dicevano che assolutamente andavano benissimo si sentiva bene però ovviamente siccome le ho pagate 7 euro e non è un grande prezzo per delle cuffie bluetooth wow però è bellissimo è soft touch ed è fantastico mi aspettavo qualcosa di meno onestamente non ho idea neanche di come si aprono schiacciando questo tastino si illumina io non ho idea di come funzionino ok qui ci sono le cuffie a questo azzurro mi piace tantissimo che è praticamente il mio colore preferito uno dei miei preferiti e le proverò non c'è niente da dire perché queste sono appunto da provare abbiamo poi dei mini dinosauri che ho deciso di mettere nella camera del bimbo su una delle mensoline che ho acquistato sono veramente piccolissimi c'è chi li mette sulle torte ma io ho voluto utilizzarli come decorazione anche perché sono troppo piccoli per giocarci ho preso questa lucina notturna forma di dinosauri per la camera del bimbo ultimissima cosa non me la ricordavo è questa cornice molto bella comunque per le foto penso che il formato sia di una foto standard appunto ho cercato questo c'era anche o più piccola o più grande ok il video è finito anche se la mia faccia in questa seconda parte è molto stravolta dato che ho dovuto fare dei make up poi mi sono dovuta struccare ritruccare comunque la mia faccia sta soffrendo ad ogni modo come vi dicevo a me piace davvero tanto questa tipologia di video se il video vi è piaciuto o possono interessarvi altri contenuti iscrivetevi al canale detto questo noi ci rivediamo in un prossimo video e